si chiama difendiamo gli ulivi con tanto di hashtag da far girare sui social network la campagna di sensibilizzazione con cui i vip stanno tentando di difendere gli ulivi del salento a rischio eradicazione a causa della xylella a lanciare l'iniziativa il gruppo musicale salentino dei su sound system che attraverso il suo profilo twitter ha invitato gli amici del settore dello spettacolo a farsi scattare una foto con un cartello in cui campeggia l'hashtag della campagna in molti hanno subito aderito all'iniziativa a partire dai salentini doc come giuliano san giorgi voce dei negro amaro albano emma marrone e federico zampaglione leader dei subsonica ma non si sono fatte attendere le adesioni di claudia gerini compagna di zampaglione samuele bersani marco materazzi e sabina guzzanti una mobilitazione che due domeniche fa ha portato a una grande manifestazione a lecce in piazza santo ronzo l'argomento è stato affrontato anche durante la trasmissione il volo del mattino condotta da fabio volo su radio dj attirando l'attenzione di tutti i media resta da dire però che secondo gli esperti l'eradicazione degli ulivi malati al momento resta l'unico modo per evitare che il contagio si allarghi e colpisca altre zone della puglia a cominciare dal barese